Alicum, siamo al lavoro, annuncia il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio per formare la squadra del futuro governo 5 Stelle. E Grillo si appella direttamente a Mattarella, noi siamo disponibili a tutti i passi per le elezioni. Il centro-destra esulta ma si divide sui tempi delle elezioni, Salvini e Meloni chiedono di andare alle urne. Il centro-destra esulta ma si muove la legge elettorale, non scudo nemmeno l'ipotesi di un nuovo governo. Il centro-destra esulta ma si muove la pittura. Il centro-destra esulta ma si muove la pittura. Ciao, mi chiamo Gianpaolo Bernascone. Oggi è il 5 di dicembre 2016. Voglio suggerire a voi la leggere di questo articolo molto buon articolo da Taylor Caldwell. L'articolo è stato pubblicato prima di mei 29, 1974. Il titolo dell'articolo è Il medio classico non dovrebbe perdere o dovrebbe essere perdita. Questo è l'articolo di Taylor Caldwell, un po' americano. Il titolo dell'articolo è Il medio classico non dovrebbe perdere o dovrebbe perdere. Questo è un articolo in favore del medio classico. E in questo articolo, potete trovare l'internet, ci sono due punti principali contro il marxismo. Il primo punto contro il marxismo è che il Karl Marx, in famose noti, è «to each according to his needs, from each according to his ability». E il medio classico deve essere anti-marxist, e dobbiamo parlare di «to each according to his ability» e non «to his needs». E l'altro importante punto di questo articolo da Taylor Caldwell è che abbiamo due raggiungere per andare contro una taxa di inglese perché la taxa di inglese è presente nella Costituzione italiana è quello che il Karl Marx deve propostare. Quindi dobbiamo andare verso una taxa di inglese. E questo è un buon articolo questo è un buon articolo in altri libri. «Il medio classico non dovrebbe perdere». L'articolo è stato pubblicato prima del 29 maio del 1934 e poi è riportato in «The New American» «The conservative weekly newspaper» in «The New American» in «The New American» in May 1 1995. Grazie, ciao!